amici di newsf1.it buonasera userebbe forse più giusto dire buonanotte visto l'orario alle quundici meno cinque in diretta bentornati a Rota Libera al nostro bar virtuale Marco buonanotte a questo punto benvenuto buonanotte a te e buonanotte a tutti quanti i nostri ascoltatori fan osservatori della del dopo come diciamo in questo caso come diciamo a Roma buonanotte ai suonatori perché anche il campionato del mondo costruttori Sene Ito ha preso la strada del Red Bull ma mancava solo l'ufficialità e la matematica sapevamo già da tempo dove sarebbe andato a finire anche questo campionato del mondo un gran premio degli Stati Uniti che fino a metà fino a metà gara come ci dicevamo su WhatsApp e di stasera di che che raccontano di che di che se parlerà invece poi alla fine c'è sempre qualcuno che che dall'alto ci pensa evidentemente tra safety car e max incidenti e una Mercedes ritrovata anche un pit stop incredibilmente lento per per la prima volta con un errore la pistola ma il funzionamento della pistola per per la Red Bull di Verstappen alla fine ci ha regalato una gara molto 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 interessante e che recita così la classifica finale per Stappen Hamilton Leclerc sembra quasi un una classifica dello scorso anno Marco Peretz Russell Norris Alonso detto anche terminator unbreakable perché è incredibile quello che ha fatto eh Vettel un'altra grandissima eh presenza chiamiamola così Magnussen e in ultimo Sunoda Marco prima di di addentrarci nelle solite incongruenze FIA perché anche oggi seppur passate forse un po' in secondo piano in secondo piano ne abbiamo ne abbiamo viste eh Ferrari che partiva dodicesima con con Leclerc Sainz poi non non è sempre fatta apposta che lo insultiamo sempre tra virgolette ovviamente ma anche oggi è stato in parte sfortunato è stato bravissimo sabato con una pola stratosferica eh ha peccato in partenza pur partendo sul lato pulito della pista tra le altre cose perché da lì passa la traiettoria ha pattinato in partenza Verstappen non se l'è fatto ripetere l'ha infilato e poi Russell che forse un po' troppo eh così aggressivo in curva uno lo ha centrato in pieno e lo lo ha messo K però alla fine anche Leclerc che ha fatto la tua bella rimonta a chiuso terzo senza la safety di che lo ha vantaggiato safety di Bottas sicuramente non sarebbe faticato quantomeno molto molto di più se difficilmente sarebbe riuscito ad arrivare a podio però poi ancora una volta mh ci ha fatto divertire con un bel duello con Verstappen come al solito un grandissimo sul passo sul terzo uno dei suoi però alla fine ancora una volta la gomma evidentemente sembra averla distrutta perché dopo eh essere stato in scia per diversi giri a Verstappen così di di colpo uscito dalla zona di RS ha cominciato a perdere mostruosamente sì lui ha avuto praticamente un crollo verticale come sta poi succedendo oramai da metà campionato alla la Ferrari e questo forse è il motivo che tante volte loro anticipano o almeno quel che sembra anticipavano la sosta questa volta invece è andato fino in fondo poi diciamo che ha recuperato un po' anche perché forse è peggiorato qualcun altro fatto sta che la gara della della Ferrari fondamentalmente è stata rovinata qui non parliamo di la gara che che ho fatto un garone perché insomma da dodicesimo a terzo è eh insomma non dico non non dico che è un'impresa su sta pista però beh ha aiutato anche da le sepe di gare perché insomma non è che aiutano sempre gli altri eh ogni tanto aiutano anche quelli della Ferrari più che altro Sainz partito male non lo so se è partito male Sainz e il problema è che parte forse troppo bene la Red Bull sia con eh con Perez che che con Vestap cioè la Red Bull sembra quasi avere un traction control quando parte cioè non pattina quasi mai è capitato qualche volta ma nelle ultime gare non pattina quasi mai quindi sono diciamo due esperti delle partezze che si piloti che si piloti Red Bull evidentemente senza nessun aiuto elettronico eh a parte diciamo la sensibilità che devono avere su nel piede poi che cosa ha fatto Sainz? Sainz ha cercato l'incrocio ecco perché si è allargato in cui in cui ha fatto quella traiettoria allarga poi stringe per stringere e poi lì è stato centrato da da diciamo il eh come dice il troppo irruente no irruente no diciamo che irruento eh troppo irrueta troppo irrueta rassel vabbè comunque sono incidenti di gara certo che eh in genere se tu pensi al alla all'incidente di Alonso che a quella velocità ha sbattuto ha rotto mezzo muso è rientrato e poi rientrato in gara quando invece lì diciamo questo colpo ha messo un po' la Ferrari tra l'altro tra l'altro se non erro è è anche il punto cioè sono avvenuti in due punti diametralmente opposti uno sul punto più veloce del circuito con DRS aperto sul rettilineo e l'altro nel punto più lento curva uno esatto eh quello di curva uno a velocità tra virgolette chiaramente risibile ha avuto delle conseguenze nefaste per la Ferrari incredibile in positivo quello che ha fatto Alonso in eh negativo molto negativo quello che ha fatto Stroller tra l'altro sarà divertente vedere l'anno prossimo li vedremo compagni di squadra lo lo sappiamo bene forse mi ha mi ha stupito anche un po' questo forse questo fatto però giustifica il fatto eh del team radio molto soft molto sobrio di Alonso al quale è stato semplicemente chiesto stai bene lui ha risposto ovviamente un po' approvato perché un minimo di adrenalina lì ti entra in circolo tanta miseria eh ha semplicemente spostato tutto ok l'abbiamo visto scagliarsi abbiamo sentito anzi scagliarsi in radio contro idiot e quant'altro idiots these guys and idiot eccetera per molto molto meno però stavolta stranamente forse si è ricordato che il papà di Lancer l'anno prossimo gli stacca l'assegno a fine mese evidentemente beh Alonso su queste cose è sempre molto lucido non è che poi insomma non è un ragazzino eh l'anno prossimo si sarà una bella guerra poi guarda io proprio mi ero preso a punto no eh nei miei punti volevo proprio commentare quella posizione di Stroller della partenza perché comunque era quinto e quindi volevo un po' elogiare le gare perché noi certe volte ci dimentichiamo qualche volta di chi è dietro no gli stori di protagonisti e poi vabbè ha fatto sta fregnaccia diciamo così che si è spostato e ha stato questo incidente però io quello che stavo dicendo è questo cioè se tu hai visto la macchina di Alonso l'avranno vista tutti ha sbattuto violentemente contro il guarderail con la ruota posteriore vero che è stato un impatto eh diciamo perpendicolare quindi non è però insomma una botta del genere quella velocità sai chi immagina che Alonso rientra in gara e addirittura finisce pure a punti cioè no 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 eh non te lo immagini eh non te lo immagini quando invece diciamo la toccatina lì ehm sulla Ferrari è costata l'impianto idraulico a parte che la fortuna è cieca ma la spiga ci vede benissimo e poi dai la toccatina chirurgica è appunto nevralgico fa sempre più danni che incredibilmente un incidente del genere che poteva avere tra le altre cose conseguenze nefaste per per Alonso non tanto per Strolla anche se lì poi abbiamo visto Alonso è decollato certo Alonso è decollato Strolla si è girato più volte in pieno rettilineo con una immensa nuvola di fumo quindi bravi anche quelli dietro ad evitarlo e per fortuna le possiamo parlare in positivo visto il rientro di di Alonso che ha chiuso appunto settimo senza conseguenze nefaste per per nessuno se non per l'Aston Martin per sì dico bene per l'Aston Martin che sarà da buttare o quasi chissà se rientra nel budget cap visto che hanno sporato però quello che è successo visto che stiamo parlando dell'incidente di Alonso quello che 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 è successo che di cui stiamo parlando mi offre mi offre l'assist per ritornare al discorso iniziale che abbiamo fatto sulle incongruenze delle decisioni eh FIA perché magari oggi sono passati in secondo piano perché non hanno toccato forse avrebbero dovuto toccare anche mh attori di primo ordine come dici tu a volte ci scordiamo di chi di chi è dietro no troppo concentrati su chi è davanti sembrerebbe che anche la FIA applichi due così due pesi due misure sulla bilancia perché abbiamo visto tante volte in passato mh bandiere arancioni per pezzi pericolanti per molto molto meno di quello che abbiamo visto oggi abbiamo visto Perez con un ala anteriore che si è staccata alla fine la paratia la bandella laterale ma fino a quel momento nessuno della FIA gli aveva detto eh aveva pensato di dirgli di obbligarlo come hanno fatto anche nelle gare precedenti per chi sta dietro di rientrare box perché c'era pericolo e la cosa incredibile è che nessuno ha pensato bene non me ne voglia Alonso di fermare Alonso per quel per quello specchietto traballante poi lo specchietto a quella velocità ha anche un certo peso quando ti arriva addosso che ti arriva addosso si è staccato e quello lì per gli ultimi giri si è staccato in in scia a Magnussen credo se non erro si è staccato fortunatamente non ha preso nessuno ma è quello lì depositato per svariate decine di giri sul sul rittilineo lì sei in duello di allarghi passi lo prendi nessuno ha segnalato niente poi però hanno pensato bene per la stessa identica ehm eh infrazione che ha fatto che ci ha fatto infuriare tra le altre cose visto per come era stata gestita a Singapore delle dieci macchine di distanza di di Perez che è stato aspettato tre ore dopo la gara e questa volta Solerti come non mai la figlia minore della della famiglia Red Bull l'Alfa Tauri Gasly si è beccato cinque secondi d'Amblè perché ricordiamo che la regola delle dieci macchine vale per tutti per tutto il pacchetto delle venti non vale solo per chi è in testa che non deve essere a dieci macchine di distanza maggiore dalla settima anche tra il quarto il quinto al sesto e il settimo c'era non ci può essere una distanza massima di dieci macchine dieci auto e a stavolta Gasly è stato puntito ancora una volta alla FIA due pesi e due misure nessuno l'ha aspettato non si è aspettato tre ore dopo la gara per sentire Gasly cinque secondi e gara rovinata anche perché poi quando è tornata in box ha servito la penalità e sembra ci sia stato un problema nel conteggio evidentemente e ha preso penalità su penalità una gara completamente buttata la cosa scandalosa non è solo questa il fatto che l'hanno combinata immediatamente quindi lì non c'è stato non potevo dire che la safety car andasse piano come ha detto Perez insomma lui non riusciva a stare appresso alla safety car io come è come se tu c'hai una motocicletta e dici che non puoi andare appresso a uno in bici comunque e che devi fare è strano perché comunque lui fa sempre parte della della famiglia Red Bull però sai credo che lui vada via quegli sfigati della famiglia Red Bull eh sì brutto a dirsi perché per carità sono professionisti però insomma e quindi qui si è visto un po' però oggi hanno fatto un po' tutte le decisioni sono state un po' come da rodeo no quindi nella tradizione texana hanno fatto correre anche per Stappen che c'aveva quella paradia che si staccava quando frenava eh ci sono state queste sì sì poi forse loro magari non l'hanno vista ma non penso perché dovrebbero vedere tutto però dai ormai lo sappiamo che questo è il trend io non è che mi scandalizzo più di tanto non c'è poco da fare il discorso è che e forse a questo puntano a farlo diventare lo stato scuolico ormai tanto lo fanno sempre che 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 si scandalizzano a far più ormai è così lo sappiamo ma certo poi la verità viene prima osteggiata poi è poi alla fine accettata diciamo per quello che è per una cosa normale no quindi il problema lo sai il punto qual è secondo me è che qui noi dobbiamo pure capire che se metti pressione allora chi è che si lamentava sempre a Verstappen quando c'era qualcuno con dei pezzi penzolanti alla radio ecco c'è quello che c'è il pezzo penzolante quell'altro è passato cioè ci stanno gli altri che stanno tutti zitti in questo caso parlo soprattutto della Ferrari ma anche di altre scuderie stanno zitti ad esempio la McLaren parla con 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 Zac Brown o poi non stanno cioè tu li vedi tutti quanti così per cui alla fine non c'è pressione non c'è pressione mediatica perché poi i team radio non dico che li trasmettono tutti ma una buona parte sì e allora le cose passano passano come si dice da noi in cavalleria quindi che dobbiamo fare questo purtroppo è un dato di fatto non c'è poco a dire su questa teniamo un vero pietoso tanto ormai questo è teniamo botta fino a fine stagione ma sola scusami in osservazione ma veramente vogliamo parlare di rispetto delle regole adesso in questo periodo della formula 1 con quello che sta succedendo nel primo anno del budget cap e poi ci arriveremo come detto va di moda sti giorni va di moda chi non parla di regole regolamenti conti conticini guardi il marchese del grillo c'è avrà il conticino ecco fammi vedere il conticino adesso questo è il periodo perché ormai tutti una volta erano tutti tecnici poi sono diventati piloti poi strateghi adesso sono tutti ragionieri e commerciali ti voglio fare una domanda in questo momento tu stai trasmettendo stiamo facendo una diretta per news f1 ma non è che contemporaneamente la stai facendo per qualcun altro così chi tu possa dire alla fine che in realtà lavoravi oggi anche se non è un lavoro il nostro infatti infatti io registro la trasmissione poi al posto 2 ci metto una patch per non far vedere che eravamo in due e sfruttiamo la doppia trasmissione sta cosa sta cosa assurda che lui no lavoravo sulle bacine come fai a controllare uno su che cosa sta lavorando vabbè comunque andiamo avanti dai torniamo alla gara quante prima della gara quante quante volte ce lo siamo chiesto quando è entrato in vigore e chi controlla il controllore cioè come fai a controllare ogni singola spesa di colossi l'avevamo già detto ma c'è l'avevamo ampiamente previsto e non siamo scienziati no? sì non è che ci voleva una mente Einstein per capire una cosa del genere ci siamo arrivati noi Marco beh l'avamo detto in tempi non sospetti noi forse arriva la seconda gara non mi ricordo hai nominato hai nominato la McLaren quindi nominiamo anche Norris a un fire negli ultimi giri in duello con anche Bettele Alonso se sulle ha superati in scioltezza diciamo così per chiudere in sesto posto contro Altare ma questo anche non ci stupisce più il ormai pensionato forse perché si vocifera che di un eventuale passaggio alla forse se Schumacher non verrà confermato Ricciardo chiude mestamente in sedicesima posizione davanti solo a a Latifi dietro appena dietro a Schumacher che ha chiuso quindicesimo mentre il buon Magnussen si è portato a casa due punticini d'oro che potevano essere tre se all'ultimo giro non ci fosse stata quella magia che forse è stata insieme anzi forse secondo me anche più più bello del sorpasso di Vettel all'ultimo giro dove soprattutto per come l'ha preparato come ha insistito come l'ha voluto e dove lo ha fatto anche di più rispetto a quello di Leclerc che è stato comunque meraviglioso ma arrivava alla fine di un rettilineo col DRS come così come sono ormai tutti i maggiori la maggior parte degli eh dei sorpassi d'oro quindi diciamo che un po' un po' la classifica si è mossa anche nel medio bassa classifica insomma punti pesanti per i soldoni di fine anno eh sì eh si è mossa tanto vabbè la la Red Bull chiaramente adesso non ho visto la classifica dei costruttori Mercedes la Red Bull chiaramente ha conquistato il titolo ma questo pure l'avevamo anticipatamente detto era impossibile che lo perdessero cioè non c'erano pochissime possibilità e sì ci sono ancora punti in palio per qualcuno però la domanda che ti fa che faccio io è un'altra è sta diventando sempre più interessante questa Formula 1 nonostante ha campionato vinto ha visto quante persone ci stanno eh quando c' quante persone c'erano al Gran Premio e adesso non conosco i dati eh no no io mi so fatto mi so fatto un'idea eh il Gran Premio sì scusami gli spettatori di oggi sono figli per così dire della di quella porcata targata Liberty Media Drive to Survive che va tanto che è anche un prodotto bello ma soprattutto confezionato ad arte che poco ha che fare eh nella realtà di fatti della della Formula 1 è più una dynasty o un Dallas per i vecchietti come noi o un beautiful se preferite che un vero e proprio racconto della stagione di Formula 1 perché ultimamente c'è stato un boom di guarda l'anno prossimo credo sia l'unico eh l'unica nazione con tre Gran Premio perché c'è Austin c'è Miami e tra da quest'anno e l'anno prossimo con l'altra porcata megagalattica di Las Vegas che si escludi forse l'ultima parte del terzo settore se avessero fatto un ovale era identico facevano prima forse a quel punto tanto vale riportare dentro Indianapolis che aveva il suo fascino rispetto a Las Vegas che corre in una strada piena di di luci dove sicuramente secondo me si correrà di notte chiaramente per renderla ancora più più elettrizzante e più enfatizzante eh però quello che si è visto oggi è che ripeto secondo me tutta quella muraglia umana tantissimi spettatori in America per la Formula 1 sono tutti figli della della Delta di drive to survive perché la Formula 1 in America non ha mai 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 tirato soprattutto come mai come in quest'ultimo tempo eh ma del resto Liberty Media a quello a quello punta ad ampliare lo spettacolo a caparrarsi giovani e meno giovani e a intinguare le casse sì certo non dico però quello che volevo dire è appunto a parte questa tua considerazione che io trovo giustissima comunque è da vedere anche i dati tv e fatto sta che il campionato è finito e noi abbiamo avuto delle stagioni in cui il campionato è finito cioè a titolo assegnato e quando c'era la Mercedes che era diciamo nella sua massima forma i primi quattro anni accadeva a settembre insomma semmai la lotta era vuoi tra i due piloti finché c'è stata finché non è arrivato a botta tra i due piloti Mercedes a un certo punto c'era un calo non so se la vedi salvo ha mandato online se vuoi te la leggo se non riesce a vedere la cosa qua sì quindi Mercedes quattro e quindici Ferrari quattro e sessantanove era questo che ah beh allora c'è ancora un po' di margine dai se se Sainz secca qualche altra gara con tre gare con tre gare alla fine facciamo ancora un tempo a finitersi tranquillo c'è margine non c'è da voglia noi stiamo scherzando su Sainz perché l'abbiamo massacrato per certi periodi quindi alla fine oggi lui è incolpevole è partito male ma insomma come ho detto prima è partito bene per stare un po' ma ma il trash on control è vietato giusto in formula 1? Parrebbe di sì ecco perché c'ho la sensazione che certe volte questa macchina le macchine di eh della Red Bull quelle vincenti eh no quelle quando arriva la sono secondi o terzi nel campionato quelle vincenti quelle di quattro anni consecutivi c'ho sempre la sensazione che o Newy è veramente un super genio ve lo è questo l'abbiamo stabilito però c'è sempre la sensazione la sensazione che c'è qualche cosa nelle accelerazioni che queste macchine non non pattinano quasi mai una mia curiosità eh non è un complotto da complottisti eh c'hanno il piedino delicato si vede ma sì perché poi quando la Ferrari è stata punita qualche tempo fa per il motore quindi c'era un discorso di software probabilmente sul eh sul flussometro sul flussometro chissà da adesso vengono tutte queste centraline questi scaricati bene i software controllati veramente come ti dovrete chissà però andiamo avanti quindi sennò dopo ci dicono eh vogliamo giustificare le perdite avevo interrotto della Ferrari che quando c'era la Mercedes queste cose succedevano a settembre però quest'anno il fine che fine mondiale più interessante nonostante si è stato assegnato già entrambi i titoli questo forse volevi dire sì no è comunque interessante cioè le gare sono belle eh ci sono oggi ad esempio c'è stata una bellissima gara sotto tutti sotto tanti punti di vista poi lasciamo perdere il tipo personale eh Hamilton Hamilton quasi quasi ha rischiato di vincere che eh sarebbe stato pure un bel record che poi non è detto che ancora non lo possa fare no quindi vincere una gare in ogni stagione dal 2007 però però oggi oggi c'erano veramente tutte le congiunzioni astrali possibili e immaginabili sembra proprio che dovesse vincere oggi cioè proprio gli si è acchittato tutto a Taurino perfettamente poi però anche secondo me era molto intelligente la scelta di andare sulle hard perché tecnicamente è vero eh l'Apirelli diceva che le medie dovranno durare 19 giri e per la Ferrari ne sono durati meno come al solito per la Red Bull ne sono durate di più certo è che se al posto di di Verstappen ci fosse stato Leclerc eh Hamilton avrebbe tranquillamente portato a casa la la vittoria con le hard sarebbe stata la scelta la scelta giusta eh erano convinti anche forse in Mercedes che alla fine quel gap di prestazioni con la 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 media ridotta come come vita e come grip gli avrebbe potuto dare quel quello step in più per andare a vincere invece alla fine Verstappen piano piano se l'è se l'è pappato. Vabbè ma questa questa Red Bull è troppo veloce è velocissima nei rettilinei quando sia se c'è l'ala aperta sia se c'è l'ala chiusa eh eh c'è non è una macchina è un missile questa macchina ora è andata male a Hamilton secondo me perché un po' per colpa tra virgolette di Leclerc se Leclerc l'avesse tenuto per stare per indietro non altri paghi dei giri forse forse ce la poteva fare perché stavamo lì insomma però a proposito credo non non inquadrata dalla regia non so se c'è se salvo c'è notizie dalla nostra di regia o se ne notizie tu il fatto che comunque nonostante quell'enorme tempo perso in box da Verstappen Leclerc gli sia uscito appena davanti dovrebbe lasciar supporre che anche il pit stop di Leclerc è stato incredibilmente lungo però non abbiamo avuto né immagini né notizie né team raid o niente cioè Verstappen ha perso tantissimi secondi lì e Leclerc certo non gli era dietro ma non gli era neanche così tanto dietro da dover riuscire davanti di un di un soffio quindi sicuramente deve essere successo qualche cosa anche al al pit stop non inquadrato di sicuramente forse è stato anche accennato in diretta però sì sicuramente quindi anche loro qualche cosa hanno sbagliato probabilmente l'anteriore sinistra è stata una maledizione per tutti perché tutti quelli che hanno avuto problemi box ce l'hanno avuto sulla sull'anteriore sinistra yellata per essere yellata qualcuno fa degli scongiuri la prossima volta magari si toccherà quella destra chissà se quei secondi che ha perso non sarebbero stati non dico sufficienti a farlo arrivare davanti però no ma forse per Hamilton si sarebbero stati sufficienti per Hamilton a fargli portare la vittoria probabilmente la mancettina di secondi c'è 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 di vero e sicuro che la Mercedes comunque al di là che oggi la Red Bull ha avuto qualche problema che la Mercedes ha fatto grandi passi avanti cioè non è minimamente paragonabile a quella che avevamo visto agli inizi della della stagione questo bisogna bisogna togliersi tanto di cappello a verso davanti i tedeschi perché si sono rimboccati le mani e vediamo l'anno prossimo come come comincia hanno lavorato durante l'anno hanno cercato di lavorare addirittura il gap dagli altri stanno piano piano ce la stanno facendo questa è una pista che probabilmente allora era favorevole per tutta una serie dei motivi ma soprattutto anche per come guida Hamilton su questa pista quello che mi chiedo invece io è come mai invece la Ferrari visto il consumo eccessivo delle gomme si sia concentrata sul solo sul setup che quello lo possono si possono concentrare sul setup in tutte le gare e io mi chiedo se abbiano portato pezzi nuovi e stanno lavorando sul fatto che l'anno prossimo loro dovranno essere quelli che con le gomme ci ragionano meglio perché all'inizio dell'anno era così quindi adesso è un po' da capire c'è il viatico che sta che sta portando questo fine della stagione non è perfetto per l'anno prossimo perché visto che oramai il campionato l'hai perso ok che sei in lotta per i costruttori ma insomma qualche non dico esperimento ma qualche pezzo nuovo importante per il consumo delle gomme sarebbe rivederlo in giro invece mi sembra che poi forse Salvo ce lo potrà dire che lui diciamo è l'esperto in questo accoglie tutti i particolari delle vetture non mi sembra che qui si sta lavorando molto ora se non si sta lavorando è stato detto pure che è per colpa del budget cap perché ho sentito anche questa da giornali ultimamente quindi diciamo che la Ferrari non sta sviluppando tantissimo la vettura attuale perché è fuori budget cioè potrebbe andare fuori budget però io lo dico sempre se voi assumete fate mille pasti al giorno potreste niente aggiornamenti Salvo dice niente aggiornamenti Ferrari in Stati Uniti però se hai in fabbrica mille persone a cui devi dare a mangiare invece che spendere 30 euro dici che hai speso 60 e poi c'è qualche problema possiamo fare un budget perché il catering è importantissimo perché è fondamentale sai quanto costa una lattina dreadful lasciato senti Marco visto che siamo intorno ai 27 minuti ti lascio i minuti finali trasmissioni per parlare per dire la cosa del budget cap quindi a te la parola la farsa è diciamo è andata in scena quindi come noi sta andando in scena poi non ci sono ancora decisioni finali però il fatto che si sta allungando e quindi diluendo tutto quanto questo nel tempo perché passano passando le settimane qua ancora si si vocifra di un di un accordo e quindi di un patteggiamento il quale come forse nella giustizia originale originale ordinaria il il patteggiamento in genere porta una gandanna più lieve no poi se di là si dice no non lo accettiamo perché noi siamo in regola la realtà è che questa è tutta una farsa è un gioco si arriverà a decidere probabilmente dopo la fine del campionato quando ormai le bocce sono ferme non si faranno danni a nessuno io di questo sono fermamente convinto come voi non avevamo detto eh quando ne abbiamo parlato perché la Red Bull è intoccabile come è intoccabile la Mercedes l'anno scorso fino a due anni fa anzi ma lo è ancora su per giù per certi pezzi su poi se sbagliano la macchina che io faccio eh non è che le puoi dire guardate a tutti gli altri eh vi limitiamo i giri motore perché la Mercedes è intoccabile e hanno sbagliato la macchina e sono andati l'alzato così i piedi fatto sta che è una farsa e io sono sicuro al cento per cento almeno questo è quello che penso io e che non ci sarà una decisione prima della fine del campionato e la decisione sarà assolutamente lieve quindi la Red Bull probabilmente la Red Bull porterà qualche altra prova a discapito visto che ha creato sei società per fare sto giochetto porterà qualche altra cosa quindi sai fino a che non c'è la sentenza del giudice e sia in dibattimento si possono portare le prove a favore a a favore quindi vedremo adesso che succede tu invece che dici? Dico che sicuramente la la tua previsione è condivisibile è molto probabile che che venga che che avvenga quanto da te pronosticato però c'è da dire che stavolta magari ce ne scordiamo o facciamo finta di niente noi tifosi no? Cioè siamo spallucci vabbè ma io credo che chi è veramente incazzato forse Binotto ma Wolf io Wolf come nemico 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 incazzato non lo vorrei perché forse lui è l'unico anche anche Zac Brown della della McLaren non è non è stato esattamente morbido però forse è troppo grossa la la posta in palio diciamo così perché non accada nulla o perché quantomeno questo episodio non vada a modificare in qualche modo ehm il regolamento relativo al budget cap perché poi vabbè detto di ha detto della grande prova di Alonso del del campione che non lo scopriamo oggi quando poi si siede a parlare davanti ai microfoni la ha sempre una punta di veleno per tutti specie per la Ferrari è riuscito a dire nell'ultima intervista non so se l'hai seletta in relazione al budget cap che ha detto immaginate se la Ferrari avesse vinto il mondiale 2019 eh l'anno famoso del doppio flussometro del del quando è stata pizzicata a barare tra virgolette col motore nella zona grigia e la Ferrari non è stata punita non è stata penalizzata e i due anni dopo che ci siamo fatti di purgatorio col motore della 500 Abarth che arrivavamo ultimi cioè velocità di punta non neanche registravano quando passavano quello non conta eh quindi c'è c'è chi ha sempre la memoria corta e chi c'è sempre parole al fiele per non dire un'altra cosa verso Maranello ma comunque quest'anno cioè sicuramente come ci siamo già detti non è giusto andare a toccare quello dell'anno scorso eh non puoi toccare quello di quest'anno però io mi aspetto quantomeno che eh quello che è avvenuto cambi profondamente qualcosa o la stangata non gliela puoi dare anche perché da regolamento la stangata non c'è perché tra le ops tu c'è la figlia più che fare una di quelle cose previste dal regolamento che tutti hanno approvato eh è andato è andato bene a tutti forse anche per pararsi in caso qualcuno sforasse più di questo non ci possono fare poi se succede ce la ce la giochiamo però qualcosa deve cambiare per forza perché io penso che Zac Brown ma soprattutto Wolf a costo di di rimetterci la salute con qualche attacco di cuore di travaso di bile sicuramente non la farà passare così sotto silenzio specie dopo la fine del mondiale dell'anno scorso che ce l'ha ancora qua molto probabilmente guarda io penso che Wolf fa cioè fa questa cosa di essere diciamo il più duro di tutti con doppio scopo uno ottenere davvero una punizione per Red Bull due sapendo che non verrà ottenuta eh sforare quanto gli pare per l'anno in corso e per l'anno prossimo seconda un ritorno per lui per la Mercedes secondo insomma un guadagno sì perché potrà dire io mi sono opposto ferocemente voi non avete fatto nulla e quindi io faccio quello che che fanno gli altri quindi lui è intelligente da questo punto di vista seconda considerazione è questa eh anche se eh volessero cambiare i parametri del budget cap quindi quando li cambiano per la stagione duemilaventitré perché non li puoi cambiare per la stagione duemilaventidue il che vuol dire che esatto il che vuol dire che verranno controllati nel duemilaventiquattro cioè di che stiamo a parlare qua qui stiamo a parlare di fuffa cioè questa questa è tutta fuffa adesso eh tutto questo si scioglierà se ne andrà proprio verrà diluito in un mare in cui poi alla fine eh chi fa il furbo è quello diciamo che poi riesce anche tra virgolette a vincere perché si spende più soldi ovviamente che poi non è che questi primi tre non ce li abbiano eh quindi Red Bull Ferrari e Mercedes penso che potrebbero tranquillamente spendere oltre se ci fosse non ci fosse un limite ai cento quarantacinque milioni indipendentemente dal fatto che la Ferrari poi magari spende male perché è un altro discorso perché su cui diciamo possiamo anche diciamo soprassedere però questo è il punto secondo me non succede proprio niente per quanto riguarda Alonso che dà sempre le frecciatine Alonso è fatto così allora il discorso del pulsometro con la Ferrari eh non è stata proprio beccata diciamo che eh era qualcosa che non era completamente provabile eh la Ferrari ha collaborato con la federazione ha detto pure attenzione vi aiuteremo noi a capire quando gli altri barano pensando che qualcun altro barassa lo stesso modo non è servito niente perché non è stato trovato nessun altro che barava lo stesso modo perché forse non è stato cercato e quindi eh non è che magari non è stato cercato quindi poi alla fine si è data pure lei la zapposi i piedi perché tutta quanta questa collaborazione ha portato a che cosa due anni di purgatorio e poi sentirsi pure dire che eh lascia perdere che l'ha fatto Alonso Alonso le cose le dice ma tanti invece le pensano non le possono dire eh eh a pensare che che poi loro comunque erano irregolari quindi dire che siamo cioè stiamo sempre là qua il discorso è le regole non sono chiare la macchina e queste macchine dell'era Ibda sono troppo complicate per andare veramente a capire chi e come bara la ferroviazione non ci arriva a livello tecnologico sono esperti per ad arrivare al punto di essere pari almeno con quelli che queste macchine le progettano e le costruiscono saranno sempre un passo indietro è normale esatto c'ha la ferroviazione ha meno competenze cioè non ce l'ha non ce la fa quindi questo è il punto fondamentalmente ma questo già da tempo eh però soprattutto con la volera Ibda Salvo c'è qualche commento qui anche se con l'ora tarda magari non per eccoci qui Vincenzo Pellegrino cioè Vincenzo nel ciclismo se vieni scoperto a barare ti ritirano il titolo eventualmente vinto perché in Formula 1 dovrebbe succedere beh oddio Vincenzo secondo me il ciclismo non è neanche l'esempio più più concreto anche se quello che dici tu è vero perché lo sappiamo pezzo tutti che non c'è ciclista che non sia pulito si tratta solo di di tempo primo fortuna o meno nel caso di controlli perché insomma non credo che un un essere umano riesca a fare una media di trecento chilometri al giorno per un mese di di fila a quelle a quelle medie ma questo è un altro discorso eh sicuramente perché non viene ridato il titolo ma perché non c'è scritto il problema di fondo è che non c'è scritto neanche sul regolamento cioè tu comunque non puoi se anche la FIA domani impazzisce dice ok ha revocato il titolo dello scorzano Red Bull se la Red Bull va in tribunale anche col peggiore degli avvocati la FIA la ribalta perché non sta scritto da nessuna parte non c'è se il regolamento dice la punizione è una di queste cinque e sono tutte cinque visibili perché il massimo che rischia è una limitazione budget cap duemila e ventitré con un minore utilizzo di ore della galleria del vento come dice Marco si vedranno gli effetti nel duemila e ventiquattro o in corso nel ventitré non possono in nessun modo andare a modificare non c'è non è previsto proprio dal regolamento Vincenzo quindi è fuori da da ogni discussione c'è qualche altro commento Salvatore Gabriele Bubbola ciao Gabriele non sono fan di science ma se magari non fanno fuori science come oggi dando solo cinque secondi di ventità a chi butta fuori oggi hanno dato cinque secondi scusa Salvo non abbiamo fatto in tempo a finire anche a chi ha forzato altra macchina fuori da pista sì Gabriele anche questo è vero cinque secondi forse forse sono pochi c'è di sicuro c'è di sicuro che è un errore non voluto c'è un errore di valutazione chiamarlo come vogliamo non c'è dodo cioè nessuno pensa qui che Russell ha puntato anche perché Russell è stato tutto sommato fortunato a non riportare danni perché magari se la prendevo con un'angolazione diversa potrebbe applicare il braccetto della sospensione potrebbe succedere qualsiasi cosa cinque secondi sono tanti sono pochi è sempre lì il metodo di giudizio su che si basano non lo sappiamo neanche più noi su che cosa se c'è uno storico se c'è un precedente ogni ogni gran premio stiamo siamo sempre messi così finché continueranno a cambiare i giudici il i commissari di gara ogni gran premio girano tutti non c'è uniformità di giudizio dimmi Marco scusa però Massimo scusami il fatto che giri quindi che ci sia un ricambio secondo me invece è positivo perché si rischia se metti sempre gli stessi che diciamo vadano incontro a simpatie verso qualcuno e questa è la prima cosa seconda cosa ci sono gli incidenti di gara adesso non è che possiamo veramente si può questo è uno sport che si può punire sempre per quello per qualsiasi cosa è uno sport c'è l'incidente di gara come Russell è certa la prima curva non è che poteva perché poteva pure rompere o in certo senso lo mettete ma magari la lettone quindi deveva magari arrivare a perdere non sono a montagna dei secondi quello che è successo con Sainz ci può stare non è niente straordinario incidente di gara salvo se c'è qualcos'altro sì Damiano ciao Damiano ciao ragazzi Verstappen è fortissimo quando il rettilineo guadagni un secondo con gli resti aperti tutto diventa molto più facile la Ferrari ormai è stata superata dalla Mercedes nonostante le protezze di Leclerc allora Damiano sì indubbiamente poi per come è stata progettata e concepita la la Red Bull può permettersi questo incredibile vantaggio in in zona di RS sicuramente sicuramente li avvantaggia è chiaro però secondo me più che il non mi stupisce oltremodo questo vantaggio che hanno perché anche come ci hanno spiegato i nostri ingegneri per il modo geniale in cui è stata concetita e sviluppata con questa poca resistenza all'avanzamento che sviluppa è avvantaggiata fa paura al fatto che comunque in qualsiasi condizioni come vuoi sono tutte le macchine che vanno a dominare i mondiali in ogni condizione di gare in ogni condizione meteo in ogni tratto della pista sono sempre se non i primi i secondi quindi è una macchina che funziona alla meraviglia oggi anche senza cioè in queste condizioni anche senza DRS con un DRS meno potente avrebbero sicuramente vinto secondo me sì ma penso anch'io a questo Salvo ci dice che comunque sono finiti i commenti Marco se si è fatta una certa perché sono le undici e trentacinque domani è giornata di lavoro per tutti abbiamo sporato i nostri quaranta minuti abituali come sempre quindi direi che che ci possiamo salutare grazie per essere stato con noi chiaramente grazie a te massimo grazie a tutti e buonanotte a questo punto buona sì esattamente il bar chiude buonanotte a tutti grazie per averci seguito come sempre ricordatevi di continuare a seguirci su internet su sito internet facebook instagram youtube ovviamente iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per venire sempre aggiornati Marco anche di notte il rito va compiuto quindi raccogliamo assolutamente di nuovo ragazzi buonanotte a tutti alla prossima buonanotte ciao ciao